Bella a tutti ragazzi, qui è Dark Mundo di The Souls 4 e benvenuti in questa prima serie del canale di Tomb Raider Questa serie ragazzi andrà avanti finchè non finirà il gioco e non sarò l'unico a caricare delle serie perchè in pratica ognuno del gruppo caricherà una serie a piacimento che farà lui stesso personalmente Quindi io carico a Tomb Raider e gli altri non vi spoilerò niente, lo vedrete nei prossimi giorni Sto giocando col joint pop, come vedete, facciamo una nuova partita, uno salvataggio, facciamo normale e via Un esploratore disse che non sono le persone a essere straordinarie Ma le loro opere Finalmente potevo lasciare il segno Partirei in avventura Ma fu l'avventura a trovare me Nei momenti più cubi Aiuto! Quando la vita ci scorre davanti ai doppi Troviamo qualcosa che ci spinge Uno stimolo a proseguire Partirei in avventura Stai ok già mi vibra il joystick e non mi piace non ti sento non ti sento non ti sento che ascivo awesome ah Oh, ho fatto cagare adesso No, raga, fatemi abbassare un po' perché non è un po' Lasciamo così, ok Bala, tombati Rai tutto Ovi sei c'era qualche micro la ghiacchietta No, fermati Stiamo al 1080 x 7 20 Ok Giola Aiuto Aiuto Così Pesimo, ok, vediamo pigliare il fuoco anche noi Quindi accelto così Non doliamo Farà molto male Eh, sì, Laura, mi seri sì Doi Yeah, brucia Oh, merda So Che sfiga Porca troi No X Quale X? Questi X Oh 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 Ho bevuto un po' troppo Sono ubriaco Sono ubriaco Sono Trovo ubriaco Oddio No 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 Dove mi trovo? Eh, mi sa dove mi trovi Ok Una fiaccola Una fiaccola Non devo fare rumore Non devo fare rumore Ok E' tutta piena di sangue Allora, andiamo No, la fiaccola LB per esaminare l'ambiente Qual è LB? Io, ragazzi, non ci gioco tanto col joystick Quindi LB è questo No LB è questo Uh Voglio la fiaccola Poi Ma io ho paura di questi rumori Ah, per saltare No Ah, è questo Ah, fatemi abbassare il rumore Perché, ragazzi E' altissimo Eh, ehm 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 Ne ho po' Fissione grafiche No, non è qua Di gioco Ehm 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 Siamo un po' Ehm 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 Un po' meglio Un po' meglio Ok Ok Ehm Oh my god Ogni sitten Ehm 끝 embora Ma Modena Oh Oddio Ueh 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 e se questo 2 3 certo dopo che l'ho seguito erano la città vabbè non sei perché sei ancora milano eventi ho detto di andare a 1280 ok ok si ok vai Lara ok vabbò perlomeno sei lavata provo una via di uscita ecco allora segniamola di piedi devo uscire da qui voglio aggrapparmi basta mettimela voglio salì a parte a parte oh grazie al cielo ok ok quindi quindi io non posso andare se non si spegne quindi innanzitutto non ci sono stile così così che si tirò su che è e ora è appeso e ora è appeso ancora e cani tutto ma così abbiamo toccato no si spavano delle tifo allora cosa è questo cos'è questo? non 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 ok andiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua e ora facciamo così poi vai di qua salta oh ho capito allora facciamo così torna sul loro poi vai di qua salta ah ho capito ok la roba bruciata ok quella perchè è caduta non va bene che accade orri 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 adesso a vota giù io ho attenzione ok 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 scappola ok 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 oh ok a vada con me oggi ancora ora cazzo pezzo di merda no no bisogna che difficile sta cosa di post allora la tiene la vuole stuprare 지금 i tiri ai pazzi faccia poi è fun no passi in faccia erano estrechica troviamo l' Vitalia faria rialzo bar domanda attorato un 40 Corri! Annaggettia! Corri, corri, corri! Tenta! Wow! Vai, 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 cazzo, dai, cazzo, dai, cazzo! Ci sei quasi! Riuscite vicino! Oh! Ah, ce l'hai fatta! Oh Trombrider Ok Bene Ok ragazzi Direi che per questo primo video Introduttivo di questa serie Sia davvero tutto Spero vi sia piaciuto Lara Croft e le sue tette E il suo culo E ci vediamo al prossimo video con i The Souls Phone Bello